ciao ragazzi e bentornati nel mio canale fantasticamente hinge dove oggi andremo a chiarire delle nozioni di logica che sono molto molto utili nello studio della geometria ovvero le condizioni necessarie le condizioni sufficienti e le condizioni necessarie e sufficienti in questa schermata trovate già un po di teoria che a mio parere però lascia un po il tempo che trova perché si tende spesso e volentieri ad imparare questi concetti a memoria e poi alla fine non si assimilano dovutamente io quindi per spiegarvi al meglio andrò a farvi direttamente degli esempi partendo da un esempio dalla vita di tutti i giorni per poi passare al campo della geometria quindi cominciamo subito la svizzera è divisa ai 26 cantoni e uno dei più grandi è il canton berna dunque se una persona è bernese allora è anche svizzera diciamo quindi che essere bernese è una condizione sufficiente per essere svizzero ma non è valida l'implicazione opposta cioè se una persona è svizzera non è detto che sia bernese potrebbe per esempio essere grigionese dunque essere svizzero non è una condizione sufficiente per essere bernese possiamo però dire che essere svizzero è una condizione necessaria per essere bernese cioè una persona che non è svizzera infatti non può assolutamente essere bernese ma ancora una volta non vale il contrario cioè essere bernese non è una condizione necessaria per essere svizzero alla fine possiamo dire che essere bernese è una condizione sufficiente per essere svizzero ma non è necessaria oppure possiamo dire che essere svizzero è una condizione necessaria per essere bernese ma non sufficiente matematicamente la relazione tra queste due condizioni è indicata con il simbolo dell'implicazione perfetto gli stessi identici concetti possono essere applicati in geometria per esempio tutti i rettangoli hanno quattro lati quindi sono dei quadrilateri dunque se un poligono è un rettangolo allora è anche un quadrilatero ma ci sono quadrilateri ovviamente che non sono rettangoli vale quindi che essere rettangolo è una condizione sufficiente ma non necessaria per essere un quadrilatero e possiamo anche dire che essere un quadrilatero è una condizione necessaria ma non sufficiente per essere rettangolo domanda esistono condizioni che sono sia necessarie che sufficienti sì e vi faccio subito un esempio se un triangolo equilatero cioè a tutti i lati congruenti allora ha anche tutti gli angoli congruenti possiamo dunque dire che essere un triangolo equilatero è una condizione sufficiente per essere un triangolo con tutti gli angoli congruenti oppure che essere un triangolo con tutti gli angoli congruenti è una condizione necessaria per essere un triangolo equilatero ma esistono triangoli che hanno tutti gli angoli congruenti ma che non sono equilateri no ovviamente infatti è possibile dimostrare che se è un triangolo a tutti gli angoli congruenti allora è anche equilatero in questo caso quindi l'implicazione vale anche nella direzione opposta quindi essere un triangolo con tutti gli angoli congruenti è anche una condizione sufficiente per essere un triangolo equilatero e essere un triangolo equilatero è anche una condizione necessaria per essere un triangolo con tutti gli angoli congruenti dato che in questo caso l'implicazione è valida nelle due direzioni possiamo dire che essere un triangolo equilatero è una condizione necessaria e sufficiente per essere un triangolo con tutti gli angoli congruenti e viceversa le due condizioni infatti sono equivalenti benissimo spero che questo tutorial sia stato chiaro ed utile e soprattutto che vi faciliti nel ragionare con maggiore consapevolezza nello studio della geometria e non solo se vi è piaciuto lasciate un like o un commento e per non perdervi prossimi iscrivetevi al canale ciao 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 ciao